Non abbiamo ancora smaltito la delusione del pareggio contro il Bologna, ma ovviamente bisogna tornare a vivere, bisogna tornare a concentrarsi, al pensare al futuro del nostro Milan. Una cosa è certa, la partita contro il Bologna ha messo ancora una volta in evidenza come il reparto offensivo, in particolare la tre quarti, necessiti di investimenti importanti in vista del futuro, in vista della prossima stagione, ma anche dei prossimi anni. E quindi Milan si sta guardando attorno, ovviamente ormai non contento delle prestazioni offerte da Walter Messias, Salem Ecker che è uscito totalmente dai radar e ne parleremo perché non sono d'accordo di questa decisione, Brahim Diaz che sta faticando e dall'altro lato Rebic che anche lui sta facendo fatica. C'è solo un Rafael Leao che, seppur ha giocato una partita opaca contro il Bologna, è l'unico in questa stagione che ha garantito sprazzi, continuità e un rendimento in crescita, visto anche considerato la sua giovanissima età. E quindi Milan per il futuro sogna il grande colpo dal Real Madrid e sembrerebbe che si stiano intensificando i contatti con Asensio, giocatore talentuoso del Real Madrid, spagnolo, che ha il contratto di scadenza al 30 giugno 2023 e il giocatore avendo il contratto di scadenza potrebbe essere un'opportunità di calcio a mercato, un'opportunità importante, un giocatore di grande esperienza, internazionale, un giocatore che ha già vinto tanto, quindi che ha mentalità, e un giocatore che ha il Milan permetterebbe sicuramente di alzare l'asticella. E proprio in questi ultimi giorni si parla di un'offerta al calciatore, il Milan potrebbe offrire un contratto importante ad Asensio, anche sfruttando il decreto crescita, quindi delle agevolazioni fiscali. Sembrerebbe che il Milan in questo momento possa garantire il tetto massimo, in questo momento, ribadiamo, incompatibile col budget del Milan, di 4 milioni di euro, quindi di chi andrebbe a pareggiare un importante ingaggio di Theo Hernandez. E sembrerebbe che questa offerta possa essere ritenuta congrua per Asensio, che lascerebbe il Real Madrid e finalmente, perché è un giocatore di 26 anni, potrebbe trovare un club importante, ma che possa garantirgli quella continuità di rendimento che a Real Madrid, vista la folta concorrenza, visto l'altissimo livello tecnico, sempre della squadra madrilena, in qualche modo un po' gli è mancato. Proprio questa, secondo me, è l'unico contro di Asensio. Le sue statistiche, ovvero è un giocatore che, da quando Milita nel campionato di Serie A, quindi Milita nel Real Madrid, prima squadra, ha totalizzato 188 presenze, realizzando 30 reti e 31 assist. Quindi è un giocatore che in quasi 200 partite ha fatto 30 gol, quindi il Milan dovrebbe, ovviamente, andare a migliorare la tre quarti con dei gol. E Asensio è un giocatore che nel suo storico, però, c'è da dire, ha avuto anche poca continuità, però ha portato pochi gol. Tantissimi assist, 30, sono sicuramente molto importanti. Quando poi ha giocato nel Castiglia, il Real Madrid ha totalizzato 56 presenze, 7 gol, 9 assist, anche quando era giovanissimo, non ha mai dimostrato, non ha mai avuto nelle corde, nelle caratteristiche, questi tanti gol nelle gambe. Oggi si è sentito il procuratore di Asensio che ha parlato di Asensio possibile al Milan, difendendo in Milan un club importante, un club storico, un club che è un orgoglio. L'interesse del Milan è un orgoglio, un futuro a Milano è un'opzione, ha detto Asensio, un futuro che potrebbe, appunto, vederlo in Serie A, nonostante l'interesse di tante squadre in Premier League, su tutte, mi dicono, l'Arsenal. Quindi, da un lato, in Milan, questa fortissima esigenza di un esterno, di un trequartista, di una trequarti, da rinnovare, da fortificare, da alzare il livello. Dall'altro, l'opportunità di calcio a mercato, che ha un nome e cognome, Marco Asensio, 26enne del Real Madrid, in contratto in scadenza dal 30 giugno 2023-2024, e quindi, rappresenta, potrebbe rappresentare l'identikit perfetto. Fatemi sapere, amici di Rubrica Rosso Nera, cosa ne pensate e, come sempre, se vi è piaciuto questo video, vi chiedete di mettere mi piace, di condividerlo e di iscrivervi anche al YouTube di Rubrica Rosso Nera.